come una reliqua museale e invece vorremmo cercare di fare conoscere il cinema giovane, nuovo Fiscio qui, eh? Siete dei coglioni, sì Cioè, è una dolorosa, a mio giudizio rattristante, diciamo contrazione casereccia delle cose Volevo sapere per quale motivo in Russia c'è una grave crisi economica? La strada, la strada, la strada La strada, la strada, la strada Per quanto riguarda l'aspetto commerciale, oggi tra l'altro un incontro definito proficuo con Luciana Castellina, proprio per vedere come coniugare gli aspetti dell'agenzia con gli aspetti poi... Vendi, vendi, guaglio, vendi... Ma gli ha detto il direttore di Re 3? Sì, a chiappa, a ferra, la voglia... Mezzanotte d'intorni, questa notte vuole aprire un interrogativo. Si può fare un grande cinema se alle spalle non c'è una grande tv? Si può fare una grande tv se alle spalle non c'è un grande cinema? Rattristante! 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 Lilia, hai visto le donne di questo paese? Ti hanno votato non te ne ho capito? Ammorsi tua, vita mia! Ha scaricato me all'inferno e le è uscita fuori... E il Pranni, ma ci sei o ci fai? Ci sei o ci fai? C'è un modo storicista come era quello di Argan, un modo strutturalista come quello di Brandi, quello marxista come era quello di Lucas e Bonito Liva c'è un modo, Totomodo, dove ho realizzato una sorta di ibridazione tra... Rivediamo il replay, vedete, c'entra in pieno l'imbarcazione di Carlos Maidana, quindi out per Scott Gilman, Scott Gilman è fuori... Ok... Ok... Oh... Keep your hands on the wheel For Christ's sake do you have a lighter, don't you? Thanks, I beat it No Oh No 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 Il cinema italiano è un quesito a cui ancora non ho avuto risposta. Viagra, effetti, rischi e indicazioni. Tutto quello che bisogna sapere sul farmaco del momento. Tenendo conto fra l'altro che questo nefando delitto è fatto per far soldi. Ma praticamente tutti quelli che hanno preso i contributi da parte dello Stato, hanno fatto dei film brutti e non hanno incassato una lira, non verranno condannati se praticamente restituiscono il mal tolto. E questa macchina da presa siamo andati in giro per Roma perché volevo fare un documentario sulle fontane di Roma. L'ho dimenticata nel primo bar in cui siamo entrati a prendere un gelato e lì è finita la prima prima lezione di cinema. L'ho dimenticata nel primo bar in cui siamo andati in giro. L'ho dimenticata nel primo bar in cui siamo andati in giro.